Buongiorno! Oggi gita! Saluta Ale! No, lui è stanco, è ora del suo pisolo. È Luna, stiamo andando a fare un giro. Stiamo andando a vicino Cuneo. Siamo partiti da due minuti, siamo già dovuti tornare indietro perché abbiamo dimenticato qualcosa? Classico, ovviamente. Capita sempre. Siamo fermati un attimo per rilevare. Pupetto già dorme. Siamo partiti da dieci minuti e lui già a cucciolotto dorme, guardate. La macchina è un sonnipero. Per di più lui a quest'ora fa sempre il suo riposino. È una goduria viaggiare con lui perché tanto dorme. Mi piacciono questi nuovi occhiali, come mi stanno? Li ho comprati su Wish. Mi sono arrivati. Non sono riuscita ad aspettare di fare il LOL di ciò che ho comprato su Wish. Fatemi sapere. Siamo arrivati a destinazione. Che bello. Adesso vi faccio vedere tutto. Ciao. Ciao. Senti che profumo di lavanda. Lascia il passeggino. Lascia il passeggino. Non sono riuscirà. Vi faccio vedere tutto il problema. Ajde. Dai, ecco. Dai, ecco. Dai, ecco. Ti muo velo. Dai, ecco. Senti il profumo dei fiori. Amore, ecco. Senti? No? Ti è arrabbiato? Vieni da mamma! Dai, vieni da mamma! Dai, vieni da mamma! Dai! Vieni! Vieni da mamma! Vieni da mamma! Guarda lì! Dai ciao ciao! Cosa fa papà? Vieni da mamma! Vieni da mamma! Papà, adesso viene! Guarda un po' là che arriva! Guarda un po' là che adesso arriva eh! No vabbè ragazzi è bellissimo! Anche io solo non cadere! Non cado, non cado! Aereo! E contro! Vabbè quello che è! Sempre una roba che vola! C'è un profumo! Ma un profumo! Spettacolo! E pensare che non è neanche distante da casa! Io ho sempre detto che volevo andare in Provenza, in Francia, a vedere le distese di lavanda! Ma invece ce l'avevo un'ora da casa! Qui in Piemonte! Fantastico! Cosa fai? Un pulsante nooo! Un pulsante nooo! Sta che sta bene è! Ti prendo! Ti prendo! Ti prendo! KK Ale vieni! Vieni amore! È ora di tornare su! E' troppo facile andare giù! Aspettatemi! Oh mamma! Tu hai il piattone senza avere niente in mano Beh, c'è la videocamera Aspettate, c'è una petta Non so se la vedete Ok, siamo di nuovo in viaggio Siamo sudati i marci Fa un caldo allucinante Menomale che ogni tanto arrivava un po' di arietta Comunque è veramente bello, 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 bello Se siete abitati in Piemonte Vi consiglio assolutamente di venire Perché ne vale la pena Veramente molto, molto, molto bello Anche a Dale è piaciuto, vero? Dopo un po' Il primo momento no Non si voleva scollare dal papà Però poi ce l'abbiamo fatta Bello, bello, bello Adesso poi vi metterò magari anche qualche foto Insieme alle riprese che ho fatto Vediamo poi un attimo come Deciderò poi nel momento del montaggio Comunque se siete piemontesi o liguri Perché comunque qua siamo molto vicini Al confine con la Liguria Vi consiglio assolutamente di venire Perché, ripeto, ne vale la pena Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.